Carnevale annullato a Favara. La decisione è stata presa nel primo pomeriggio di oggi dal commissario straordinario del comune Marcello Cascino. Il provvedimento di revoca della manifestazione carnacialesca ci ha spiegato il dirigente del sesto dipartimento sport e spettacolo dottor Michele Sorce segue l'incidente verificatosi in via Pergola dove a causa del parziale crollo del balcone di un'abitazione è rimasta gravemente ferita la 65enne Maria Vella. L'edizione 2011 del Carnevale favarese non ha avuto pace. Al primo rinvio dovuto alla scomparsa del giovane Cavallaro si aggiunge adesso quella della sfiorata tragedia di oggi. In mattinata si era dato il via ai festeggiamenti con la prima sfilata dei due carri allegorici. Appuntamento questo che in corso Vittorio Veneto aveva evidenziato la mancanza di uno dei tre carri allegorici annunciati dagli organizzatori. Infatti a causa del mancato rilascio delle certificazioni di sicurezza obbligatorie previste dalla legge due gruppi si erano uniti, quello di Checco Zalone e quello di Braccio di Ferro per formare un unico carro chiamato Checco di Ferro. Da evidenziare comunque la scarsa presenza di pubblico registrata nel corso dell'unica sfilata effettuata. Infatti ad accompagnare il corteo oggi a Favara sparuti gruppi di giovani, rarissime le persone in maschera e del tutto assenti le scuole cittadine. L'appuntamento con il Carnevale favarese adesso slitta d'ufficio al febbraio 2012 sperando in una buona riuscita dell'evento.